ciao ragazzi come andiamo tutto bene sembra ieri che ho iniziato questo canale così mi avete portato in alto ragazzi mi avete portato fino a 2000 amici iscritti io ho parlato davanti a tante persone ma mai davanti a 2000 persone a volte quando mi capita di fare le live magari so che vedranno viste da molti di voi io sono me stesso però vi garantisco che un po di emozione come avrete potuto vedere il mio impegno sta aumentando non carico più solo video il martedì e la domenica ma ne carico di più e vi darò sempre di più modo di vedere la mia vita dentro il campo grazie a tutti i 2000 che ci sono iscritti e vi abbraccio tutti quanti ciao